Hanno preso il via da ieri mercoledì 24 giugno due nuovi progetti di servizio civile candidati a finanziamento nei mesi scorsi dal comune di Agropoli e ritenuti idonei da parte del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Si tratta di a spasso con le emozioni che riguarda l'assistenza a minori e a giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale che comprende 20 volontari e il progetto sono con te per l'assistenza ad adulti e anziani in condizione di disagio e disabili con 20 volontari. In virtù dell'emergenza Covid-19 al fine di evitare attività al chiuso e prediligendo invece quelle all'aria aperta, l'ente ha pensato di impiegare 40 volontari con età compresa tra i 18 e i 28 anni nell'accoglienza e nell'assistenza di famiglie che fruiscono di beni pubblici. Saranno di supporto per regolamentare i flussi e l'intrattenimento di persone fornendo loro info utili presso luoghi pubblici accessibili, in particolare le spiagge incluse quelle sociali solidali. Terminato il periodo estivo i progetti proseguiranno nel rispetto di eventuali prescrizioni legate all'emergenza nazionale e regionale. Ieri mattina il sindaco Adamo Coppola e l'assessore alle politiche sociali Vanna D'Arienzo hanno incontrato i ragazzi presso l'aula consigliare per fare loro un in bocca al lupo per il percorso che li vedrà impegnati a collaborare per 12 mesi con l'ente municipale. Anche per l'annualità 2020-2021, afferma il sindaco Adamo Coppola, il nostro comune ha il piacere di gestire due nuovi progetti di servizio civile. Saranno 40 i volontari che collaboreranno con l'ente per svolgere attività di accoglienza e assistenza, un anno che sarà per loro formativo e ricco di contenuti per prepararli al futuro. Con grande piacere, spiega Vanna D'Arienzo, assessore alle politiche sociali, abbiamo dato il benvenuto ai ragazzi e alle ragazze che saranno impegnati in due distinti progetti di servizio civile, come per i progetti appena terminati e per quelli del passato, i volontari potranno costruire un importante bagaglio di esperienza che sarà certamente di ausilio per il loro percorso lavorativo e di vita.